Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Siena a Firenze, dove c'è traffico bloccato per un incidente avvenuto nei pressi del bypass tra San Casciono Nord e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Deviazioni segnalate in loco. Per lo stesso incidente, code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze in Pruneta provenendo da Bologna. Sempre in A1, code per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Spostandoci in FIPI lì, un chilometro di coda per lavori al chilometro 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestro Fiorentina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!